un altro gol di quelli pesanti regalo di compleanno ritardato sì mi sono fatto questo regalo di compleanno un po in ritardo però sono molto contento per la prestazione fatta dalla squadra contro una grande squadra e abbiamo portato a casa tre punti importanti un derby non è mai facile vincere c'è anche la pressione un po del pubblico noi siamo stati molto bravi e siamo molto contenti ce lo descrivi gol diciamo quando mi è arrivata la palla lì sulla sinistra ho saltato il mio avversario non ci ho guardato la porta e non ci ho pensato due volte ho tirato e fortunatamente è andata bene ho fatto un bel gol rivedendolo prima e siamo molto contento nel complesso la prestazione in questo scenario particolare e suggestivo abbiamo fatto una grandissima partita non era facile venire qua perché comunque c'era tanto pubblico loro comunque hanno iniziato subito a mettersi un po di pressione è una partita tosta come tutte le altre contro una grande squadra e senza di molto bravi noi a a non pensarci al tutto il contesto e ringraziamo anche tifosi che sono venuti che è stato molto bello vederli e siamo molto contenti e ora testa gambe piacenza è certo testa la prossima perché ora abbiamo tante partite ravvicinate questa andata ora si pensa alle prossime che sono tutte importanti uguali